Ciao a tutti, il 6 giugno del 1944 nacque l'AMPI, l'associazione nazionale dei partigiani italiani nacque questa associazione di lotta al fascismo che allora vi era nella Repubblica Italiana ancora non era Repubblica, quindi nella penisola italiana vi era il fascismo ovviamente siamo in piena guerra mondiale nel 1944, piena seconda guerra mondiale l'Italia a breve verrà divisa in due dalla parte centro nord Repubblica Sociale Italiana e sotto l'Italia degli Alleati, va questo dopo nel 1945 comunque il 6 giugno del 1944 racque questa associazione ancora oggi molto importante che vuole tutelare l'Italia da tentativi dittatoriali che possono provenire da qualsiasi tipo di manifestazione politica eccetera